Hai un minuto? Il periodo, che va tra gli 0 e i 6 anni, è fondamentale per lo sviluppo dell'attitudine musicale nell'essere umano. Non sottovalutiamo i più piccoli. A questa età si formano le capacità musicali per comprendere e apprezzare la musica. Poi tuo figlio all'età scolastica sarà più pronto per lo studio dello strumento o del canto. Se lo vorrà... Cosa succede? La musica si impara proprio come si apprende una lingua, cioè per assorbimento. Infatti, essa è un linguaggio con il suo lessico. Prima però di imparare a scrivere e leggere, bisogna imparare ad ascoltarla. E a parlarla naturalmente. Se tu non hai mai sentito il russo, non puoi sicuramente parlarlo. Nei nostri corsi Gordon ti insegniamo a comunicare in musichese. Papà e mamma non si devono preoccupare se non hanno mai fatto musica. Ma questa è sicuramente un'esperienza che deve essere vissuta.